Doveva essere una giornata da trascorrere con gli amici, in bici, invece quella gita ciclistica si è trasformata in tragedia. E' deceduto un ciclista di 49 anni colpito da un malore in zona litoranea Battipaglia, sul posto Lavopi di Ponte Cagnano. L'uomo di Cavama, residente a Vietri, è stato colto da un infarto mentre era in strada, catendo dalla bicicletta e uscito fuori strada. E' stato soccorso dal Vopi di Ponte Cagnano, trasportato in ospedale, ma purtroppo è deceduto alla Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Grazie.